Benvenuti nel mondo di Elisee. Elisee è un marchio di orologi tedesco fondato nel 1960 a Dusseldorf. L'azienda è specializzata nella produzione di orologi di alta qualità e di design, e il suo motto è «La tradizione incontra il futuro». Elisee si distingue per la cura artigianale dei dettagli e per l'utilizzo di materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, il titanio e l'oro rosa. La produzione degli orologi Elisee è tutta made in Germany e la società è orgogliosa di mantenere la tradizione dell'orologeria tedesca. Elisee offre una vasta gamma di modelli di orologi che spaziano dallo stile sportivo all'eleganza vintage, passando per la precisione del cronografo. Tra i modelli più famosi di Elisee ci sono gli orologi della collezione «Automatic», che si distinguono per il movimento automatico di altissima qualità e per il loro design sportivo ed elegante. Inoltre, la collezione «Crono» offre orologi cronografo di grande precisione, mentre la collezione «Classic» è caratterizzata da un design sobrio e dallo stile vintage. Gli orologi Elisee sono realizzati con la massima attenzione ai dettagli e con l'utilizzo di materiali di altissima qualità. L'azienda tedesca, infatti, è nota per la sua grande esperienza nel settore dell'orologeria, nonché per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. La qualità degli orologi Elisee è garantita anche dall'attenzione prestata alle fasi di produzione e di controllo qualità. Per quanto riguarda il design degli orologi Elisee, va sottolineato che essi presentano un'ampia varietà di stili e colori. L'azienda, infatti, ha saputo coniugare l'eleganza del design tedesco con le tendenze del momento, creando orologi che si adattano perfettamente a ogni occasione e a ogni personalità. Inoltre, gli orologi Elisee sono dotati di funzionalità avanzate come il cronografo, il datario, la resistenza all'acqua e molto altro ancora. Gli orologi Elisee sono una scelta ideale per chi cerca un orologio di alta qualità e di design. La cura artigianale dei dettagli, l'utilizzo di materiali pregiati e la grande esperienza dell'azienda nel settore dell'orologeria tedesca, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono gli orologi Elisee unici e inimitabili.